Rischi limitati per il sistema bancario europeo dalla brusca frenata dell'economia cinese che i mercati finanziari sembrano presagire in questi giorni. L'esposizione verso il gigante asiatico è pari a un 2,2% appena delle attività all'estero degli istituti di credito del vecchio continente, sale di un ulteriore 3% se si aggiunge la relativamente autonoma a Hong Kong. Al di là del comparto bancario però l'afflosciarsi del dragone preoccupa tutti. La Cina è fondamentale per l'economia mondiale e ora assistiamo alla perdita del suo slancio. Ciò è negativo soprattutto per la Germania e le sue esportazioni verso la Cina. Con l'intescambio interno all'Europa che arrancava l'industria tedesca si era gettata a capofitto sulla locomotiva cinese tanto da raggiungere nel 2014 99 miliardi di dollari di esportazioni contro i 14 appena dell'Italia.